La casa di Gaudì, finalmente, dopo abbiamo camminato circa 15 minuti a piedi sotto il sole cocente, 40 gradi, Nino ha trovato la casa di Gaudì, eccola qua. Tanto bella non sembra, però è importante, la facciamo vedere. Ti piace, Nino, così, diciamo, a caldo ti piace? Vabbè, io lo sapevo, questa è una roba bella, sicuramente è particolare. L'avevi già vista da che parte? Il sole di Gaudì la vedi ovunque, su internet, in fotografia, nelle guide. Il copertino? Bravo.